Buonasera, buonasera a tutti, presentazione stagione 2024-2025 del Ribolla che parteciperà al campionato di terza categoria, chiamo subito accanto a me il direttore sportivo e il presidente che daranno una mano nelle presentazioni, il direttore sportivo Paolo Turacchi e il presidente Andrea Maule, buonasera, facciamo proprio come nelle vostre serie, uno da una parte e uno dall'altra prima di tutto grazie dell'invito, è un piacere, io quando ho occasione di girare per i campi come dicevo prima ho tanti ricordi soprattutto del vecchio campo perché era una gioia quando tornavo per fare la lavatrice, ora invece questi problemi non ci sono, meno male che stagione avete intenzione di affrontare, nel senso l'anno scorso siete venuti partiti con benissimo il campionato, poi una serie di infortuni vi ha accorciato la rosa e vi siete allontanati dalla zona playoff, quest'anno avete cambiato un pochino tutto, in primis lo staff tecnico avete inserito giovani di qualità da affiancare alla vecchia guardia storica del Ribolla, quindi un anno zero? Sì, una sorta di anno zero anche se è l'anno che ci accompagna al centesimo anniversario anche perché è il 2025, 1925 quindi il prossimo anno festeggiamo i nostri cento anni di storia quindi sentiamo l'obbligo morale di onorare questo centenario ed è per questo come giustamente dicevi che abbiamo messo un po' mano alla rosa dando un netto ringiovanimento, io sono arrivato come presidente un anno fa quindi il primo luglio 2023 trovandomi di fatto già una rosa, già comunque una squadra di fatto formata, quest'anno dando ovviamente massima fiducia al direttore sportivo ho cercato di dare un po' un minimo di mia impronta quindi il fatto di ringiovanirla e cercare di fare un progetto longimirante in qualche modo questa rosa la sento un po' più mia rispetto a quella dello scorso anno che come ho detto alla fine nel diventare presidente l'ho trovata di fatto già realizzata, già concretizzata quindi abbiamo l'obiettivo di fare un campionato dignitoso, un campionato più che dignitoso, ci rendiamo conto che il campionato di terza categoria, quello di quest'anno forse è anche più complicato di quello della scorsa stagione, ci sono delle squadre che sono organizzate, organizzate veramente bene, lo sappiamo, lo abbiamo visto, quindi l'obiettivo non è certamente quello di vincere il campionato, ripeto, l'obiettivo è quello di fare un campionato più che dignitoso, arrivare in zona playoff e poi giocarsela fino all'ultimo. Sì sì, qui siamo una società che comunque si cerca di fare le cose fatte per bene, con giusti passi, comunque si cerca di fare le cose fatte per bene, siamo arrivati dieci anni fa in promozione, è stata una cavalcata perché siamo partiti dalla terza categoria e siamo arrivati su un cima, meritatamente, c'è stata un po' di sfortuna, un po' di cose non so, girate per bene, siamo ripartiti dalla terza, però in questi anni si è sempre cercato di fare le cose per bene, si cerca sempre di essere positivi, di essere nelle parti alte della classifica, cercando con ragazzi giovani di fare un bel gruppo, con degli allenatori anche quest'anno giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, di fare le cose fatte per bene. Ma allora sicuramente esperienza interessante, io dico sempre la battuta a Paolo, mi ricordo 15-20 anni fa lo arbitravo e puntualmente lo cacciavo anche dal campo sportivo, ma strano non era una cosa... No, sicuramente per me è un'esperienza piacevole, veramente piacevole anche perché ho smesso di arbitrare nel 2010, quindi dopo tredici anni tornare in un campo di calcio e appunto con un ruolo da presidente, in passato sono stato arbitro, quindi è stata sicuramente una novità vedere il calcio poi da un altro punto di vista, arrivare poi a percepire l'agonismo, quindi la voglia di vincere, qualcosa dal punto di vista arbitrale non avevi anche perché andavi ad arbitrare, avevi l'obiettivo di arbitrare bene, poi se vincevano gli ospiti o i locali per me era totalmente indifferente, invece qua ovviamente ci tengo a fare bella figura, ci tengo a che vinca la mia squadra, quindi sicuramente una visione diversa, però piacevole, una sensazione più che piacevole. C'è stato dei momenti belli in prima squadra che ho vinto a campionare, momenti poco belli che sono retrocesso, però quando giocavo è differente perché comunque ti sfoghi in campo, da dirigente ho più anche una borraccia, è parecchio più difficile, te lo porti praticamente la sera a casa e la domenica che sei un pochino più arrabbiato, però insomma e allora a questo punto chiamiamoli, coloro che guideranno la squadra in questo campionato sono l'allenatore Federico Fanfani e il suo collaboratore allenatore in seconda Fabio Linitti. Quindi subito non va messo pressione, è stata una cosa tranquillissima, il Presidente ha già detto che il prossimo anno sono cento anni, bisogna salire via, quindi a posto. Fede, te vieni da un'esperienza cinigiano a fianco a Andrea Margiacchi, campionati importanti, come è ora guidare una prima squadra e cosa ti ha fatto accettare il rivolto? Tanto buonasera a tutti, allora come vi ho detto a Paolo quando ci siamo visti la prima volta, rispetto agli altri anni quest'anno la chiamata non me l'aspettavo. Premesso, a marcia eri ancora tesserato per il cinigiano, sei passibile a disqualificare? No, 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 il cinigiano era il corrente di tutto, possono dirlo tranquillamente, l'ho detto subito a Andrea, il Presidente, quindi per l'amor del cielo, e cosa ma avevo voglia di intraprendere un'esperienza, diciamo come il primo, dopo aver fatto un po' di gavetta diciamo nel settore giovanile lì alla Nuova, poi ho fatto un anno al secondo, sempre alla Nuova, in prima squadra da Mocirillo con una salvezza a play-out, poi ebbi l'occasione di tornare al cinigiano dove ero già stato da giocatore, e poi niente, a marzo c'è stata questa chiamata, ci siamo trovati con Paolo il Presidente, in ufficio del Presidente, diciamo che ci siamo trovati d'accordo un po' su tutto, ecco, quindi questo è stato sicuramente, sì, no, questo è stato sicuramente quello che mi ha fatto capire che probabilmente trovavo un posto dove potevo, tra virgolette, spero, ma sto convinto, lavorare con serenità e magari insomma, metterci un po' anche del mio dopo questi anni dove ho fatto il collaboratore di Andrea e anche di altri allenatori, ecco. Fabio, rispetto a Fede magari la categoria la conosci un pochino meglio, due anni fa eri a Castiglione, ripescati dopo un duello a tre con Maglianese e Marziliana, campionato difficile perché, come abbiamo detto, realtà importanti e tanti giocatori importanti, quindi ti dico, che campionato ti aspetta? Allora, il campionato non sarà sicuramente semplice perché prima giustamente ti hai detto Ribolla è una grande piazza, però purtroppo ce ne sono tante altre perché c'è Pitigliano che sarà il quarto anno che fa la terza categoria e nei giornali leggere Pitigliano terza categoria non è così bello. C'è Alberese e Rispecia che sono due retrocess dello scorso campionato che io ho affrontato che hanno mantenuto bene o male lo zoccolo duro della squadra dello scorso anno, hanno inserito giocatori validi e quindi non sarà facile. Le squadre che l'anno scorso erano in terza si sono ben o male rinforzate come ci siamo rinforzati noi e anche le squadre che l'anno scorso ben o male non hanno fatto un bel campionato, non me ne vogliono, però la classifica diceva così come poteva essere il Batignano, come può essere lo Sticciano, quest'anno Braccagni, quest'anno hanno fatto una discreta campagna acquisti, quindi sarà difficile andare a giocare su tutti i campi. Sicuramente provare a partire con il piede giusto senza però avere l'ossessione di fare il risultato, assolutamente, anche perché è la prima partita, poi si ripete il triangolare della scorsa stagione, la scorsa stagione la prima l'abbiamo giocata sull'Alta Marema vincendo 1-0 in trasferta, giochiamo questa volta abbiamo il fattore campo a favore nostro però non deve essere assolutamente un'ossessione fare il risultato, anche perché la prima partita sarà ancora un clima, temperatura abbastanza alta, quindi squadre che hanno appena finito la preparazione, vediamo, arriviamo al campo sereni, concentrati e poi raccogliamo il frutto. No, no, la squadra si sta preparando bene per l'inizio del campionato, per l'inizio della Coppa, come ha detto il Presidente non c'è nessuna pressione, ma nel senso andare in campo e divertirsi, come si è detto, poi da cosa nasce cosa. È chiaro che affrontiamo una squadra che lo scorso anno è arrivata a fare i punti con noi, che è una squadra che si è rinforzata, c'è un grosso ambiente, sentono il derby come lo sentiamo noi giustamente, però speriamo che vada come è andato lo scorso anno. Noi ci stiamo preparando, come ha detto, insomma facendo una bella preparazione amichevoli, ma aspetto una partita tosta come so poi tutti i derby, insomma. Noi cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile, sia a livello fisico che mentale di voglia e quindi spero sia prima di tutto una bella partita. Come io ho detto a loro il primo giorno di preparazione, l'importante per, secondo me, per fare qualcosa di bello è che loro si vogliano bene tra di loro, come fossero tutti di famiglia, quella è la cosa fondamentale. Al momento vedo che questa cosa sta succedendo, sono un bel gruppo, abbiamo qualche difezione lo sai, dovuta alle stagioni, giustamente il lavoro, però insomma io penso e spero che arriveremo pronti alla prima di Coppa, insomma. Sì, sicuramente tra il campionato di seconda e il campionato di terza c'è una differenza nell'affrontare la Coppa, perché noi partiamo con l'obiettivo di andare in seconda categoria, poi se si arriva in un modo o in un altro, già il fatto di poter vincere la Coppa ti permette questo obiettivo, quindi noi sicuramente non la snoberemo. I ragazzi, come ha detto Fede, si stanno allenati bene, il gruppo è unito, valido, non ci nascondiamo, perché comunque gli acquisti che abbiamo fatto hanno aumentato il valore della Rosa. Un mix di giovani e ragazzi di esperienza che, secondo me, ci faranno togliere delle soddisfazioni. Quindi a questo punto io inizierei a chiamare sul palco i protagonisti di questa stagione, partirei con i tre portieri, Pazzagli Tommaso, Ferrata Andrea e Boe Alessio. Il vicecapitano De Rose Matteo, Mangini Niccolò, E poi il resto del reparto decimato da lavoro e ferie, composto da Edda Mirko della vecchia Antonio, attra, scusami, Raffanti Lorenzo, Sonnini Federico e Spasene Catalin. Ora magari non è il momento, so che quando il Lizza per la panchina del Ribolla c'eravamo io e Federico Fanfani, te il capitano eravate per me, poi invece Paolo ha scelto Fede. Ma ti va bene uguale come allenatore? Sì, sì, dai, nel male c'è andata bene, sono due bravi ragazzi che hanno voglia, preparati, sì, sì, sono promossi appena i voti. Ianga Madione, Matteo Totti, Landi Simone, Magna Ricotta e Rocco, Filippi Alessio e Mario Edoardo. Qui sono assenti Danzotti Alessandro e De Masi Giuseppe. Arriviamo agli attaccanti con Mori Gioele, Martini Lorenzo, De Lì e Ernesto e Ramazzotti Aristote. Qui assente è Martini Gliari. Però ormai chiamiamolo il capitano Filippini Giacomo. No, lo sponsor mi piace, avete già fatto anche qualche serata lì? No, no, mi sicuro. Non ti faccio parlare di campionato, solo extra campo. No, ancora no, ancora no. Questa è la prima scena che faccio io, però i miei scena e questi ragazzi ci sono, eh? Allora ragazzi, io direi prima di tutto un grande applauso per il Ribolla 2024-2025. Press, a questo punto, come in qualsiasi società, è importante l'allenatore, è importante il viceallenatore, sono importanti tutti, ma poi tanti meriti vanno dati anche a chi lavora dietro le quinte. Quindi io, se insieme, chiamiamo sul palco i dirigenti, che sono il vicepresidente Alessandro Biondi, il dirigente responsabile della prima squadra, Manuel Berti, Ilario e Manuel, va dietro perché c'è il tatuaggio dell'Inter, quindi si mette dietro, eh? Poi, gli altri dirigenti, Michael Filippini, Gianluca Agostini. E' assente Alessandro Baldi, e non so poi se la responsabile del social media manager è arrivata, dimmi te, controlla. Sofia Turacchi è assente, e poi a casa fa i conti. Ci siamo dimenticati un altro elemento del tuo staff che è importante a questo punto. Ah, e quindi... Va bene, allora sta meglio di noi. Dai, dillo te, ringrazialo. Via telecamera. Sì, allora, grazie naturalmente a lui, che anche lui, come me e Fabio, ha sposato il progetto, che è il nostro preparatore portieri, Alessandro Biondi, che è beato lui in Sardegna, quindi gli si manda comunque un saluto, tanto dovrebbe rientrare lunedì, quindi niente, si aspetta. Signori, il Ribolla 2024-2025. Niente, orgogliosissimo della mia rosa, della mia squadra, dello staff dei dirigenti, staff tecnico, e credo di aver quest'anno, con il supporto di Paolo, messo a punto una squadra davvero competitiva. A questo punto tutto sta nei vostri piedi, soprattutto nel vostro cuore, perché poi in campo non basta avere i piedi buoni, ma ci vuole anche tanto impegno, tanta costanza, tanto coraggio. Quindi, bocca al lupo, buona stagione sportiva a noi. Grazie a tutti, buona serata e buon campionato!